ciao a tutti bentornati al michele crispo show quest'oggi abbiamo come ospite damiano wonder boy fojata ciao damiano come va ciao michele tutto bene allora come stanno tutto a posto grazie allora come stanno procedendo gli allenamenti per il tuo prossimo match che ricordo sarà il prossimo 27 marzo alla ripresa finalmente il benador fighting championship 6 allora gli allenamenti stanno andando bene ci sono stati un po di problemi data anche la zona russa io sono di castrezzato che è stato uno dei primi paesi a essere messi in zona russa e niente solite menate però grazie al contratto posso allenarmi mi sto allenando più o meno bene molto bene però sono un po limitato con gli spari in partner come credo un po tutti adesso naturalmente immagino che tu ti stia limitando in questo momento a girare con il tuo spari in partner michael pagani giusto sì allora sì lui mi spari in parte nel principale poi ho altri ragazzi che vengono comunque fammi la spari in partner diciamo che fisicamente lui è l'ideale come spari in partner non ho molti spari in partner del mio peso purtroppo allora damiano raccontaci un po di te di come è nata la tua passione per le mma allora la prima volta che ho sentito parlare proprio di mma è stato quando ho visto il film never back down avevo 16 anni 15 16 anni e mi ha stravolto il mondo perché non sapevo proprio che esisteva una disciplina del genere proprio anche gli sport da contatto in generale non mi ero mai interessato troppo ho fatto karate ma non mi era piaciuto un po tutta la dinamica e allora da lì mi sono incuriosito ho visto subito che qua non c'erano palestra nella mia zona l'ora sono andato a fare un corso di jet kundo che era tenuto da una cintura marrone di jiu jitsu e facevo un po di striking diciamo è un po di jiu jitsu con lui che era anche molto in gamba poi dopo purtroppo la palestra ha chiuso e io per un po sono rimasto senza allenarmi troppo non mi allenavo un po a casa così per passione ma niente di che fino a quando un mio amico mi ha detto che suo padre era aveva una palestra dove faceva kickboxing in muay thai lui molto in gamba e allora ho ricominciato verso i 19 anni a allenarmi lì sono andato due anni poi verso i 21 22 ho visto che c'era questa palestra nato del garda che era la palestra di maraborello cioè prima se allenava lì e allora ho detto fammi fare un giro sono andato là e niente è iniziato tutto purtroppo un po lontano da qua ma ne vale la pena ne vale la pena tu adesso attualmente da meno ai 25 anni se non sbaglio sei giovanissimo giusto quindi è da vabbè sei gio dai sei giovanissimo quindi possiamo dire che è da circa quattro anni che pratichi le mma nonostante nonostante tre anni che possiamo dire scusa se mi permetto sono pochissimi se vai a vedere hai portato già tanti risultati ad esempio sei uno dei possiamo dire top prospect più interessanti per quanto riguarda il sole italiano sei un veterano della promotion venator hai già combattuto due volte questa sarà la terza volta e è anche un bel record di 4 1 proprio del tuo record voglio parlare ora allora un record come detto di 4 1 due vittorie per submission una per ko che se non sbaglio è nel tuo ultimo match al colosseum a po fantastico e una per decisione la tua la tua unica sconfitta è venuta è arrivata scusa per mano di simone tagherdanna che conosciamo è un ragazzo molto forte che attualizzero ben due presenze al bellator ora ti chiedo di tutti i tuoi match qual è stato il più bello il momento più bello della tua carriera e qual è stato il più difficile penso quello condanna sì quello condanna sul livello psicologico è stato difficile non per lui né in generale però per un caso che si è verificato una settimana prima così niente non mi va neanche di parlarne e niente mi ha condizionato un po' questa cosa quindi sono arrivato lì un po' chiuso allora adesso non dico niente simone è forte non è l'ultimo arrivato in sport da combattimento è un ottimo avversario e il match è andato come tutti possono vedere su youtube però posso fare di meglio posso fare sicuramente di meglio di così diciamo che quel giorno lì non per una serie di cose non ero allineato ok posso performare meglio che poi lo vincevo lo perdevo poteva succedere comunque che lo perdevo non è che sto dicendo entravo lì e lo massacravo però di sicuro costevo uscire un bel match il più bello vabbè è stato l'ultimo soprattutto perché è venuto dopo questa sconfitta e mi sono un po' rivoluzionato dopo questa cosa ho detto devo cercare di sfruttare meglio i miei punti di forza quindi niente è andata come è andata un bel KO e cerchiamone sempre tanti così speriamo allora almeno come appena detto dopo la tua sconfitta ti sei rivoluzionato tempo fa Venator ha messo su social un po' un post che ha voluto proclamare una nuova rivoluzione per quanto riguarda gli atleti cercando sempre di più atleti giovani e sembrerebbe appunto che tu e il tuo sporting partner Michael siete due persone sulla quale Venator punta tanto e sei contento di essere ormai possiamo dire da un bel po' di tempo nei progetti di Venator perché ora combatterai il 27 marzo contro la vita di Deo hai combattuto già due volte sì sì allora naturalmente Venator è anche la prima promotion che ho visto quando ho iniziato a guardare un po' le mie miei miei in Italia e subito ho detto voglio combattere qua no se voglio combattere in Italia quindi mi fa molto piacere conosco bene anche Silvia così sono brave persone e niente mi è dispiaciuto che a maggio non sono riuscito a combattere come è dispiaciuto a tutti dopo è stato posticipato ancora a novembre anche lì non si è fatta quindi già due camp poi è febbraio e poi adesso è a marzo e si fa e basta speriamo sì dai a questo punto si farà io venivo da un infortunio che ho mantenuto fermo quasi un anno e il tempo qua è ricominciato si è chiuso anche tutto sono rientrato a gennaio e a marzo è iniziato tutto con le zone rosse e quindi si deve fare questo match e basta allora Damiano come prima hai detto ti sei allenato anche nel BJJ appena iniziato a praticare arti marziali e è una prova di fatto perché come ho detto all'inizio due le tue quattro vittorie ovvero il 50% delle tue vittorie sono arrivate via submission però nell'ultimo match hai dimostrato anche mani pesanti con dei grandissimi colpi che hai dimostrato anche nel match con Dan ora ti chiedo ti senti più a tuo agio nella ground face o nello striking? vabbè mi sento più a mio agio mi diverto di più più che altro in piedi naturalmente mi piace anche il jiu jitsu però diciamo che nell'MMA è più lotta mi piace tantissimo anche la lotta ma è una dinamica molto diversa è anche un po' pallosa diciamo da vedere per tutti a me no perché probabilmente mi piace tantissimo anche Khabib così guardo guardo sempre i suoi match di altri lottatori però purtroppo e soprattutto in Italia non è molto conosciuta le arti marziali e devi un po' portare questo tipo di spettacolo se vuoi se vuoi anche andare avanti perché comunque anche se vuoi entrare in UFC o in Bellator o altre promotion un po' importanti diciamo che ti aiutano queste cose se hai tutti i match vinti però sono tutti di lotta l'hai solo tenuto per terra mettendo colpi senza finalizzazioni magari così diciamo che se ti servono tre match ancora per entrare te ne servono cinque o sei poi non è detto che entri e vinci anche la cintura però sappiamo tutti anche com'è con le paghe così in UFC quello sì comunque tenere invece in piedi naturalmente come molti come molti tuoi colleghi non mi anche lottare o per terra nel jiu jitsu così mi piace tantissimo anche perché ho iniziato proprio per questo se no rimaniamo nella kickboxing allora Damiano il tuo soprannome è Wonderboy io conosco un altro Wonderboy che però sta in UFC il tuo soprannome è ispirato a Stephen Thompson o viene ti viene dato da in tutt'altro modo? viene dal videogame e me l'ha dato il mio corso un giorno me l'ha mandato neanche pensando lui a Thompson e quando lo sceglie lui è definitivo di solito quindi va bene l'abbiamo tenuto mi piace ti sta dai come soprannome dai ci sta ci potevo andarmi peggio fidati addirittura? sì sì potevo andarmi peggio è meglio così eh Damiano ti ispiri a qualche fighter in particolare magari che è in UFC in Bellator o in altre grandi promotion? che mi piace proprio è Max Holloway proprio lui anche Dustin Poirier loro mi ispiro molto due grandissimi striker sì sì di striker e vabbè Conan McGregor prima tantissimo dopo non mi è piaciuto un po' anche come personaggio dopo quindi mi ha un po' smesso di ispirare però in piedi è sempre è sempre quello che è sempre più forte sì eh Damiano ora inoltriamoci un attimo nella fight week anche se siamo a due settimane parliamo un po' del tuo match il 27 marzo appunto nel Bellator affronterai Davide di Deo con un record di 6-2 e innanzitutto ti chiedo come ti senti? come sta andando il camp nonostante le restrizioni e tutto? ma io mi sento benissimo il camp sta andando bene perché comunque riesco ad allenarmi il mio coach mi allena bene quindi arriverò lì come sono sempre arrivato speriamo che vada bene il taglio dovrebbe andare sempre andato tutto tranquillo anche perché non è un taglio tantissimo taglio diciamo il giusto che devi tagliare nelle MME ormai se vuoi essere un po' competitivo forse no rischierei di trovarmi davvero con gente grossa quello sì e niente scusa la domanda Damiano quanto pesi fuori match di solito? di solito sui 74 kg il giusto come hai detto te dai dai posso mettere un po' più sotto se inizio diciamo la nutrizione giusta per quando mi alleno tanto vado su quei chili perfetto Damiano sì Damiano allora durante questa lunga quarantena che ormai ci portiamo dietro le spalle da marzo molti fighter hanno detto ok sfrutto questo tempo per migliorare magari nella lotta o su quello che non è la mia miglior disciplina tu hai avuto l'occasione di migliorare in qualcosa durante questa quarantena? in più di un anno ho fatto un po' tutto diciamo ho fatto un po' tutto davvero per le MME e basta è così bisogna anche mischiare bene e soprattutto ho lavorato anche su quello quello sì ah Damiano cosa ne pensi del tuo prossimo avversario Davide Rideo avete visto i suoi match e avete ora non ti credo logicamente il game plan perché non sarei così stupido magari dopo va a guardare il video e tutto però avete trovato magari dei modi per contrastarlo o altro? sì naturalmente abbiamo un game plan che punta a giocare un po' su quei punti deboli che si possono vedere nei video che ho comunque abbiamo non abbiamo tantissimi match tutti e due e quello che c'è da vedere è lì diciamo quindi poi adesso secondo me sono anche fasi in cui un fighter si sviluppa tanto quindi non bisogna neanche starli troppo ad allenarsi per dire farà questa cosa per forza perché magari si è anche rivoluzionato dopo e quindi rimango sempre diciamo un po' pronto per tutto poi naturalmente ho il mio game plan da seguire portare il match dove voglio io e cosa ne pensi del tuo avversario? hai avuto modo di inquadrarlo o altro? no neanche dai social così non sono neanche guardato tanto ho guardato qualche suo video così dai match lo conoscerò quello sì ah Damiano e ora tu logicamente hai il focus al 27 marzo e ti stai preparando duramente per questo match ti lasciando da parte questo match anche se è un po' difficile e quali sono un po' i tuoi piani per il futuro? ti piacerebbe continuare il cammino in Venator perché abbiamo visto che chi ascolta e considera la promotion chi combatte per Venator e chi ovviamente vince tutti i match arriva dove deve arrivare guarda Marvin Vettori guarda Jack Hermanson guarda Azovic e altri o vorresti andare in altre promotion ad esempio il Cage Warriors e altre? se Venator mi dà l'opportunità di combattere diciamo con frequenza non cioè mi interessa molto continuare con loro certo che se poi devo combattere una volta all'anno per loro motivi che magari che ne so hanno problemi dato che li capirei anche dato il periodo magari riescono ad organizzare solo un evento l'anno allora lì devi guardarti in giro per forza anche perché se fai un match all'anno non arrivi in più quello sì era una buona media anche perché mi piace non ha senso adesso star qua ad aspettare un casino di mese ogni volta per combattere giustamente Damiano ti piacerebbe affrontare qualcuno in particolare dopo questo match hai visto una nuova Breda magari in giro nella tua categoria? chi si mette di mezzo per il titolo è l'uomo da affrontare diciamo e basta ora non so lì nella mia categoria di peso come vogliono fare però adesso non so neanche se Tony Fox cioè non so abbia ancora lì la cintura sinceramente in teoria c'è ancora lui penso che sia ancora il campione penso a difenderlo quello che o se faranno una title eliminito io quando io io o Davide naturalmente il vincitore di me contro Davide con il vincitore di forse un altro match o ancora si vedrà tra due o tre match o vediamo com'è beh sarebbe un bel match up in caso Tony Fox scusa Damiano facciamo questo match diciamo poi se ne parlerà dopo il risultato sì quello sì anche un bel sarebbe anche non adesso magari fra due match un bel match up per te contro Tony Fox io ciao sarebbe un bel match up sì 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 sarebbe un match che mi piacerebbe tanto lui ha molta più esperienza naturalmente sulla carta soprattutto e però comunque vedo in lui qualcosa da attaccabile diciamo mi serve ancora un po' di esperienza come tutti l'obiettivo che mi pongo come lontanissimo vabbè ti piacerebbe entrare come un po' come tutti gli altri penso in USA giusto? esatto quello scuro anche che ha così è un buon avversario e io sono qua per un buon avversario per forza allora Damiano io ti ringrazio per il tuo tempo e ti auguro un grosso bocca al lupo per il 27 marzo e ti chiedo hai qualcosa da dire alle persone che ti sono vicine che ti supportano e a chi guarderà questa intervista? niente guardate il mio match il 27 marzo ragazzi niente si torna finalmente speriamo dopo così tanto tempo e ringrazio tutti quelli che mi stanno sostenendo adesso per il camp e andiamo dai grazie mille Michela per l'intervista grazie Damiano e niente buona giornata dai buona giornata e ci vediamo alla prossima ciao Damiano